Longare. 20 anni appena, ma una fiorente attività di spaccio bloccata dai carabinieri che lo hanno arrestato nella sua abitazione dopo un'attività di controllo del territorio. Nella casa del giovane, i militari hanno trovato e sequestrato quasi un etto di marijuana e 5 grammi di hashish, oltre a un centinaio di euro incontanti. Non si ferma qui l'opera dei carabinieri, che continueranno anche nei prossimi giorni appositi servizi preventivi contro lo spaccio di droga.